La ASL di Taranto cerca soluzioni rapide per garantire la piena funzionalità dell'unità di neonatologia del Santissima Annunziata evitando spostamenti a Bari pubblicato un bando urgente per dirigenti medici. Abbiamo ascoltato il direttore generale Stefano Rossi. Si è conclusa l'inchiesta diocesana relativa al miracolo attribuito a madre Elisa Martinez, fondatrice delle figlie di Santa Maria di Leuca. Ora tutta la documentazione è stata inviata a Roma alla Congregazione delle Cause dei Santi. Presentata nel salone di rappresentanza della prefettura di Brindisi la ventitresima edizione del Barocco Festival, un appuntamento itinerante con l'antica musica. Il Lecce a sorpresa ha annunciato l'esonero di Fabio Liverani dopo tre anni in cui ha centrato due promozioni di fila e sfiorato la salvezza in Serie A. Adesso Colinio Semplici ha il suo posto Virtus Francavilla tra campo e mercato, oggi secondo ciclo di tamponi per la Porta Spunta Crispino. Brindisi è il De Luca Dei, nel pomeriggio la presentazione è il Taranto, svela le prime amichevoli, intanto si dimette dal detto stampa Eligio Galeone. A tutti buon pomeriggio, benvenuti a questa edizione del nostro OTG. Partiamo con la pagina regionale, in primo piano l'ipotesi di una nuova emergenza Covid. Abbiamo ascoltato il responsabile della Task Force per la Puglia in merito al Covid, ovvero il dottor Lopalco, che ha dato qualche anticipazione in merito a quello che potrebbe accadere nell'immediato futuro. Io non userei la parola paura, non dobbiamo avere paura di questo virus, in questa fase noi dobbiamo capire bene qual è il rischio, dobbiamo parlare di comprensione di questo rischio, dobbiamo capire appunto cosa dobbiamo fare per prevenire l'infezione, preoccupare, sì, noi della sanità pubblica dobbiamo preoccuparci, dobbiamo preoccuparci di chiudere questi focolai. Questa circolazione viene alimentata dai casi importati, ecco perché in questi giorni, ormai sono settimane, che si sta facendo un lavoro enorme da parte di dipartimenti di prevenzione, servizi di igiene pubblica, che stanno spegnendo i focolai che sono appunto accesi da questi casi. Quanti sono al momento i posti nelle rianimazioni degli ospedali pugliesi occupati a causa del coronavirus? Oggi ancora l'occupazione delle terapie intensive è proprio al minimo assoluto, qual è il problema però? Che stiamo cominciando a ricoverare delle persone, cioè i casi severi, il caso severo è il caso di polmonite che necessita il ricovero. Allora i casi severi si cominciano a vedere e i reparti di malattie infettive cominciano a riempirsi. Cosa significa questo? Significa che questi letti poi ad un certo punto possono svuotarsi perché le persone ricoverate guariscono e tornano a casa. Può capitare che qualcuno fa una forma un po' più grave di malattia e necessiterà nel futuro magari di una terapia intensiva. Non dobbiamo arrivare a quel punto. L'età media degli infetti si è abbassata. Come dobbiamo leggere questo dato? Questo virus si propaga per contatto. Il maggior numero di contatti fra le persone lo hanno le persone più giovani. Non sono gli anziani a vedere in una giornata 30-40 persone diverse. Sono i giovani, sono le persone che lavorano, che hanno molti contatti sociali. Quindi è normale che il virus quando entra in una comunità circola principalmente in queste fasce d'età. Noi questi casi fra i giovani nel picco epidemico non li vedevamo perché ovviamente andavamo a cercare i casi sintomatici, i casi che andavano in ospedale. Ecco perché l'età media durante il picco epidemico era molto più alta. Oggi che cerchiamo attivamente il virus, che facciamo campagne di screening, che quindi siamo più bravi a trovarlo, ecco che vengono fuori tutti questi casi fra i più giovani. La maggior parte di questi casi, lo ripetiamo, sono casi asintomatici. Quindi sono persone senza sintomi che noi andiamo a scovare grazie alle attività di contact tracing. Adesso ci fermiamo per pochi istanti e poi tutte le notizie che riguardano Taranto e Provincia. Partiremo proprio dalla sanità. In primo piano nel Tg di Taranto e Provincia la terapia intensiva del reparto di neonatologia di Taranto perché ci sono delle novità. La ASL infatti cerca soluzioni rapide per garantire la piena funzionalità di questo reparto dell'ospedale Santissima Annunziata, evitando spostamenti a Bari. Pubblicato anche un bando urgente per dirigenti medici. Abbiamo ascoltato al telefono il direttore generale della ASL Ionica, l'avvocato Stefano Rossi, il servizio è di Leo Spalluto. L'ASL di Taranto punta a garantire subito la piena funzionalità dell'Utin, l'unità di neonatologia ionica dopo le recenti polemiche. Due le strade percorse, una richiesta già avanzata per l'invio immediato in città di neonatologi intensivisti su indicazione del Dipartimento Promozione Salute della Regione Puglia e un bando urgente a tempo determinato per dirigenti medici neonatologi intensivisti. Ne abbiamo parlato con il direttore generale dell'ASL Taranto Stefano Rossi. Di concerto con la Regione è preso atto della gravissima criticità in cui ci siamo trovati con la concomitante assenza di ben tre medici intensivisti, non soltanto neonatologi ma anche intensivisti. Presso l'ASL di Taranto abbiamo pubblicato un avviso online dando cinque giorni di tempo massimo per presentare delle candidature, cercando di rilanciare al massimo la copertura mediatica, abbiamo anche sentito con l'ordine dei medici e ovviamente sul nostro sito stiamo facendo anche un passaparole, un po' di scouting a livello nazionale attraverso i canali dei professionisti che conosciamo nel tentativo di riuscire a recutare i professionisti all'attenzione. Purtroppo, fermo restando che lo ripetiamo sempre, il personale è e sarà il problema dei problemi della sanità. Il personale medico è poco, alcune specialità sono ancora di meno perché purtroppo le scuole specializzazioni ne sfondano pochi ogni anno. Sicuramente i neonatologi intensivisti è una di quelle, ma ovviamente anche gli anestesisti, anche gli ortopedici, i pediatri in generale e ovviamente la criticità non è soltanto dell'ASL di Taranto. Direttore, per chiudere, oltre a questo bando però ha seguito anche un'altra strada, approvato anche con un contatto diretto per avere dei professionisti in loco? Vabbè, tramite i nostri contatti, il dottor Cecinati che è il direttore ad Interim del reparto, tramite i contatti anche al professor Laforgia che è responsabile regionale che coordina i centri neonatologici e tra l'altro, sulla Forgia e al Policlinico, sta in rete con l'Utin di Taranto. E adesso la cronaca politico-elettorale, Luigi Morganti di Forza Italia scrive Covid, chiusure, tamponi tardivi e incertezze. La malattia dell'incapacità politica, quanto si legge in un comunicato stampa. Dopo un'estate senza controlli preventivi e priva di tamponi obbligatori, voluta dal Presidente della Regione e Assessore alla Sanità Emiliano, scrive Morganti, a fine stagione ci si trova a dover tagliare la testa alle attività e buttare nell'incertezza i cittadini pugliesi. Così si parte in ritardo con i tamponi e si arrivano a chiudere le discoteche a causa della decisione del Governo e a farne le spese. Sono i settori del turismo e dell'intrattenimento, già approvati dai mesi di lockdown e dalle restrizioni. Bisognava risolvere il problema alla base, conclude Morganti, andando a intensificare i controlli sul rispetto delle norme anti-Covid, garantendo i tamponi per chi entrava in Puglia in occasione dell'apertura delle regioni. La paura di un nuovo lockdown, intanto, conclude Luigi Morganti di Forza Italia, si fa sentire. Tremano i vari settori come moda, commercio al dettaglio, la programmazione deve essere concertata con i vari rappresentanti di categoria se non vogliamo assistere ad un disastro. Sempre per la cronaca politico-elettorale c'è una nota stampa dell'onorevole Ubaldo Pagano del Partito Democratico, il quale scrive sull'ex Silva Fitto Tace. Il centro-sinistra al momento rappresenta l'unico schieramento a dare una vera prospettiva a Taranto, quanto scrive Pagano. Le elezioni regionali saranno determinanti per decidere il futuro degli stabilimenti siderurgici di Taranto. Da una parte c'è chi come Emiliano e il centro-sinistra pugliese sostiene da anni la necessità di un energico piano di decarbonizzazione del sistema produttivo. dall'altra prosegue Ubaldo Pagano, chi come Fitto ha taciuto fino a ieri balbetta da settimane e ancora non riesce a proporre soluzioni serie per conciliare salute, ambiente e produzione mentre Scalfarotto, conclude Pagano, si lancia in difese appassionate dell'uso del carbone. Adesso torniamo ad occuparci del palio di Taranto con le iniziative che sono state spiegate, illustrate durante una conferenza stampa che si è tenuta al Castello Aragonese. Il palio è stato definito dai partecipanti all'incontro con la stampa, un vero e proprio volano per il turismo del territorio ionico. Siamo ormai alla vigilia della 35esima edizione del palio di Taranto. Domani nel canale navigabile 10 imbarcazioni si daranno battaglie in rappresentanza dei vari rioni tarantini per le semifinali. Il giorno successivo, 22 agosto, le finali in diretta sul canale 85 Antenna Sud. Durante la presentazione avvenuta al Castello Aragonese, l'assessore comunale Manzulli ha spiegato l'importanza che l'evento riveste per il rilancio turistico della città. Importante sviluppo turistico perché come ben sapete anche da esperienze vissute in altre città storiche i pali come gli eventi storici diventano dei forti attrattori turistici soprattutto per gli amanti del genere. Noi abbiamo una peculiarità fortissima che è quella legata al mare e il palio rappresenta uno degli elementi storici del turismo legato agli eventi e questo è un evento che dobbiamo valorizzare sempre di più e renderlo sempre più attrattivo soprattutto non solo per i cittadini ma anche per i turisti che arrivano da fuori e dall'estero. Nelle occasioni precedenti, anche negli anni precedenti, ogni qualvolta ci è capitato di incrociare un turista soprattutto straniero era fortemente entusiasta di questa manifestazione. Infatti il palio rappresenterà come gli Union Dolphin, come altri attrattori, uno dei nostri gioielli da portare e rappresentare nelle fiere internazionali del turismo. Come ogni anno, anche per questa 35esima edizione, sarà fondamentale il supporto della Marina Militare. Il palio di Taranto si estrinseca in un paio di giorni di regata ma oltre le regate c'è molto di più, c'è un rinnovarsi delle tradizioni marinare, c'è una vera e propria cultura del mare. Ecco quindi che la Marina Militare di buon grado fa la sua parte, mettendo a disposizione due icone del territorio tarantino, il Castello Aragonese e il Canale Navigabile. Quindi questa manifestazione si svolge quest'anno proprio all'interno delle acque del Canale Navigabile. per rendere fruibili le regate da parte di quanto più gente sia possibile, senza creare gli assembramenti. E intanto come tradizione c'è stata la cerimonia di benedizione dei remi, che quest'anno sono nuovi di zecca, ma anche il sorteggio degli stessi. Vediamo il nostro servizio. Nell'atrio di Palazzo di Città, Taranto, è avvenuta la tradizionale cerimonia della benedizione dei remi del Palio di Taranto da parte di padre Francesco Zecca della parrocchia San Pasquale. Si tratta di remi nuovi appena realizzati dai maestri d'Ascia e i fratelli Quintano. Inoltre è stato effettuato il sorteggio per l'assegnazione degli stessi alla presenza dei dieci equipaggi. Il vice sindaco Marti, si è detto contento, sente il profumo del nuovo emanato da questi remi, ha aggiunto, non sapevo fossero così lunghi, ospitiamo questo evento perché come amministrazione siamo sempre molto vicini al Palio di Taranto. È stato emozionante perché vedevo, nonostante i remi sembrassero uguali, però so che non sono proprio identici fra loro, ho visto una bella emozione negli occhi dei vogatori. Questo vuol dire che c'è davvero tanto entusiasmo, tanta voglia di partire, di cominciare a remare. È una città che, come diceva il sindaco stamattina in conferenza stampa, ha bisogno davvero di remare ed è bello che noi come amministrazione diamo una mano proprio per questo, per fornire loro i remi per remare. È una città che dovrebbe avere nelle sue vocazioni la voga, le barche a remi, le barche a vela, quello su cui stiamo lavorando tanto e del resto il nostro brand principale è Taranto capitale di mare, è quello su cui dobbiamo lavorare tutti i giorni e queste sono delle belle occasioni grazie a Francesco Simonetti e a tutti questi signori, insomma, non sono tanto giovani ma ci mettono grande entusiasmo che ogni giorno vediamo qui remare nel nostro mare, sono sempre una bellissima immagine, ma l'immagine più bella ce la regaleranno in questi giorni con il Palio di Taranto. Tra poche settimane la facoltà di medicina di Taranto sarà avviata nell'ex edificio della Banca d'Italia in Piazza Ebalia, c'è stata una vera e propria pioggia di adesioni come ha evidenziato il senatore Mario Turco, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, sono oltre 200 gli studenti che hanno già indicato come prima scelta Taranto per il corso di studi in medicina e chirurgia, sono la dimostrazione di come sia già in atto quel processo di riconversione economica, culturale e sociale che questo governo ha avviato. Questi numeri, ha detto Turco, sono la risposta tangibile anche alla scelta fatta mesi fa quando in pochi ci credevano di puntare su un percorso universitario di prestigio scegliendo una sede rinomata come quella dell'ex Banca d'Italia. È un grande risultato per il territorio ed una vera e propria iniezione di fiducia per il prossimo futuro quando Taranto potrà rivendicare l'autonomia universitaria che merita da anni. Conto alla rovescia per la richiesta di concessione dello Yardex Belleli da parte del gruppo Ferretti specializzato nella costruzione di yacht di lusso. La prossima settimana scadono i 40 giorni previsti dal momento della pubblicazione della richiesta sull'albo pretorio. Il servizio. Terminano la prossima settimana i 40 giorni di tempo previsti dalla procedura per la richiesta di concessione dell'area dello Yardex Belleli a Taranto da parte del gruppo industriale Ferretti specializzato nella costruzione di yacht di lusso. L'istanza di Ferretti era stata pubblicata sull'albo pretorio dell'autority il 15 luglio scorso. Chiusi i termini della procedura annuncia l'agile presidente dell'autorità di sistema portuale della Marlioni o Sergio Prete verificheremo innanzitutto se sono arrivate altre richieste di concessione o se a fronte della richiesta di Ferretti sono state avanzate delle osservazioni. Nel primo caso si avvia una procedura di comparazione delle istanze pervenute. Nel secondo invece si invia il dossier Ferretti per gli ulteriori passaggi alla Mise al Ministero dell'Ambiente al tavolo del contratto istituzionale di sviluppo per Taranto e come autorità portuale, dice Prete, ci riserviamo di esprimerci sulle osservazioni prima che sia rilasciata e formalizzata la concessione edemaniale a Ferretti. Al momento, spiega Prete, non ci sono ulteriori istanze di concessione né osservazioni, ma va tenuto ancora presente il periodo di ferie. Non appena si chiuderà da parte dell'autority la procedura della pubblicazione dell'istanza di concessione di Ferretti, convocheremo il tavolo del CIS e contiamo di farlo ai primi di settembre, annuncia sul punto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega alla programmazione economica, Mario Turco, coordinatore del tavolo istituzionale Taranto. A fine maggio, con la riprogrammazione dei fondi CIS, che nasce da una legge del 2015 e ha una dotazione complessiva di circa un miliardo per interventi nelle bonifiche, portualità, sanità, nuove iniziative industriali, riqualificazione urbana e università, il progetto Ferretti è entrato ufficialmente nel contratto di sviluppo per Taranto. Previsti circa 85 milioni per l'investimento ed un'altra quarantina per completare l'azione di bonifica dello Yard, che affaccia sulla rada di Margrande ed è stato utilizzato sino a poco prima del 2000 dal gruppo Belleli di Mantua. La cronaca adesso. Un incidente stradale si è verificato nel tanto pomeriggio di ieri sull'autostrada A14, a circa 10 chilometri dal casello di Massafra sulla corsia in direzione Bari. Lo schianto è avvenuto tra un'auto, una Volvo di colore bianco che in seguito all'impatto si è ribaltata e un'auto di servizio della polizia che in quel momento stava effettuando un appostamento. Non si conoscono dinamica e le cause del sinistro. Ferite in maniera non grave quattro persone, compresi due poliziotti. Sul posto si sono recati, oltre ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco, del distaccamento di Castellaneta e del gruppo squadra del porto di Taranto, i vigili del fuoco che tra l'altro sono stati impegnati per estrarre i feriti dalle lamiere contorte dei due mezzi. Adesso andiamo in provincia a Lizzano, dove si è parlato di legalità in piazza alla presenza del generale dei Carabinieri Pellegrini, che è stato un uomo della squadra del giudice Falcone. I temi della legalità in piazza a Lizzano nell'ambito della rassegna interculturale dal titolo Una finestra sui diritti. Presentato il libro del generale dei Carabinieri Angelo Pellegrino, dal titolo Noi gli uomini di Falcone, la guerra che ci impedirono di vincere. I saluti istituzionali sono stati del sindaco di Lizzano, Antonietta Doria. Sul palco è salito anche Don Antonio Coluccia, fondatore e presidente dell'opera Don Giustino Onlus. Io voglio far ricordare soprattutto ai giovani che non erano ancora nati in quegli anni in cui la mafia si ritenne più forte dello Stato. Voglio ricordare che per combattere la mafia bisogna fare dei sacrifici, ognuno per la parte di competenza. La mafia si combatte con quella parola che è così ampia, che parte dall'educazione e arriva fino alla lotta alla criminalità organizzata che si chiama legalità. Ognuno deve fare la sua parte, le famiglie devono fare la loro parte, gli insegnanti alla loro parte, gli amministratori devono operare perché la legalità sia rispettata nei propri paesi, le forze di polizia devono fare la loro parte stroncando l'illegalità diffusa, i magistrati anche, condannando chi merita di essere condannati. Questa è la quarta serata che facciamo. Abbiamo scelto come tema le serate dei diritti e abbiamo aperto una finestra sui diritti a 360 gradi, proprio perché eravamo anche legati a un discorso che era successo da poco e che tutto il mondo ne ha parlato. E quindi abbiamo voluto ancora di più affrontare questo tema. L'Associazione del Crucifisso è un contenitore nazionale, ha già 33 adesioni, che rappresenta sette regioni dell'Italia, dall'Emilia Romagna alla Sardegna. E nei giorni scorsi siamo stati a Compiano, in provincia di Parma, dove abbiamo ratificato in occasione della festa del Crucifisso l'adesione in questo percorso tra devozione e promozione. La laurea ai tempi del Covid, un premio a coloro che sono riusciti a laurearsi in modalità telematica. Sentiamo Gianmarco Sanzolino. Anche a Massafara, nel Tarantino, un premio simbolico verrà assegnato a tutti gli studenti e le studentesse che si sono laureati in modalità telematica durante l'emergenza sanitaria da Covid-19. Si tratta di una pergamena nominativa e un albero con targhetta personalizzata con il nome del laureato. La finalità è piantumarlo, facendolo attecchire e radicare fortemente sul territorio, come a dire, ovunque vi siate laureati e in qualunque modalità fate crescere le vostre radici in Puglia e nei vostri comuni. L'iniziativa è regionale e si chiama Smart Graduation Day e partecipa anche la città del Carnevale. Il sindaco Fabrizio IV e l'assessore all'istruzione Maria Rosaria Guglielmi evidenziano che sono destinatari dell'iniziativa. Coloro che con residenza nel territorio hanno conseguito il titolo di laurea triennale o magistrale in università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica della Puglia e non soltanto affrontando la discussione della tesi di laurea in modalità, come detto, telematica. Coloro che si sono laureati durante il lockdown possono presentare domanda entro martedì 1 settembre come da form online pubblicato sul sito istituzionale dell'ente in home page nella sezione Smart Graduation Day. Andiamo avanti adesso parlando delle iniziative che si stanno mettendo in atto a bordo delle motonavi dell'AMAT. Continua questo straordinario successo di Swing on Boat in Taranto, il nuovo evento esclusivo targato Scuola di Danza B-Swing organizzato con il patrocinio dell'assessorato alla cultura del Comune di Taranto ed in collaborazione con Chima Mobilità AMAT. Ogni 15 giorni, lo ricordiamo, con la direzione artistica di Nichi Pezzolla, i venerdì sera saranno all'insegna della tradizionale escursione turistica serale sulle motonavi dell'AMAT e tutto viene arricchito dalla presenza a bordo di alcuni dei più importanti musicisti del panorama Jazz e Swing Pugliese. Ricordiamo che la terza serata si terrà domani venerdì 21 agosto con imbarco alle 19.30, partenza alle 20 dal piazzale Democrata intorno alle 21.30. Adesso parliamo di diversamente abili, una festa in spiaggia con atleti, famiglie bagnanti di passaggio che non hanno resistito ad aggiungersi a Marina di Taranto, il gruppo sportivo Delfino che si occupa di disabilità intellettiva. Vediamo il servizio. Il mare deve essere davvero di tutti, con gli atleti ma anche con chi si sta avvicinando spontaneamente. Era proprio l'obiettivo di quest'oggi, questo pomeriggio. Abbiamo presentato un progetto che tra le altre e le tante attività prevede quelle all'aperto. A Marina di Taranto nuoto acquagime, tanti giochi in spiaggia, ma non soltanto poi una pizza, tutti insieme e l'immancabile bagno notturno con gli atleti dell'ASD Delfino Taranto Onlus nell'ambito del nuoto e dell'atletica leggera, un gruppo che opera dal lontano 1983 nell'area di Taranto. La spiaggetta non è nuova a questo tipo di iniziative improntate al sociale e non è mancato il supporto di quella buona politica. Siete un gruppo sportivo quindi sapete bene quanto è importante fare squadra anche nella vita, anche con la famiglia e con i colleghi, diciamo così. Questa è una riflessione abbastanza profonda. Sono degli atleti nel vero senso della parola perché tra l'altro ogni anno partecipano a campionati regionali e nazionali. Nella categoria promozionale e anche in quella agonistica, dallo scorso anno al nostro interno abbiamo un'eccellenza nel campo del nuoto. Una medaglia d'oro ai campionati 2019 in vasca corta e un'altra medaglia d'oro sempre nei 50 metri in stile libero in vasca lunga da 50 metri. Una vasca scoperta da 50 metri, badate bene, che a Taranto non abbiamo e siamo riusciti a far ottenere a questo ragazzo che ha delle potenzialità immense, dei risultati incredibili. Sto parlando di Marco Daniello. Vengono mossi da propositi di felicità, di aggregazione che in questo periodo purtroppo particolare, storico, è messo a dura prova. Quindi vedere poi queste associazioni che tanto si spendono per ritrovare questa aggregazione, per far ritrovare il sorriso ai ragazzi attraverso le attività all'aperto è fondamentale. E noi come amministrazione comunale, io come consigliere comunale, ma soprattutto come persona che vuole sposare proprio l'attenzione a quelli che sono i problemi e le problematiche sociali, ci sono e ci sarò sempre. E come sta andando? Ma devo dire che sta andando veramente benissimo, come se fosse una parentela diciamo. Beh, io spero che anche l'anno prossimo possa continuare così. Io sono contento di questa giornata perché stare in compagnia degli amici mi mette meno stress e tanta spezializzatezza è gioia. Emergenza sangue a Taranto, l'appello viene lanciato dalla ASL Ionica, torna a ripresentarsi in estate la necessità di sangue, un bisogno dovuto alla consueta pericolosa coincidenza tra il calo di scorte ematiche e la relativa maggiore richiesta durante la bella stagione. Una combinazione che in questo 2020 assume proporzioni di gran lunga maggiori a causa della situazione venute sia a creare con la diffusione del Covid-19, pertanto la ASL invita tutti i cittadini a recarsi, a donare il sangue, possono donare tutte le persone tra 18 e 65 anni che pesino almeno 50 kg e ovviamente siano in buono stato di salute. È possibile donare in vari centri emotrasfusionali come quello dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 11.30, all'ospedale di Castellaneta sempre da lunedì a sabato dalle 8 alle 12. Qui vediamo il direttore generale della ASL Ionica Stefano Rossi che si propone per la raccolta sangue, per la donazione. Poi ancora le associazioni di volontariato invitano a donare il sangue anche presso le autoemoteche che sosteranno in città e in provincia nei vari giorni della prossima settimana. C'è una notizia di Cronaca, di Cronaca Nera che giunge da Taranto. La polizia ha arrestato un uomo di 24 anni con l'accusa di lesioni. È stato arrestato perché avrebbe anche aggredito i poliziotti. L'uomo di 24 anni è stato sorpreso tra via Iapige e via Nettuno dove era stato segnalato un giovane che stava danneggiando le auto in sosta. Identificato al momento dell'arrivo dei poliziotti ha alternato momenti di pianto ad altri di estrema agitazione ed aggressività. È stato poi necessario l'intervento dei sanitari del 118. L'uomo è stato portato all'ospedale al 118 da dove poi si è allontanato. È stato nuovamente intercettato dalla polizia alla vista dell'auto dei poliziotti. Il 24enne ha tentato in vano di nascondere una spranga di ferro all'interno di una fessura della parete di un edificio. Perseverando nella sua strenua resistenza ha strattonato i poliziotti. Ha tentato di fuggire a piedi ma gli agenti lo hanno bloccato non senza difficoltà. Numerosi precedenti, in gran parte per reati contro il patrimonio, destinatario anche di un provvedimento di divieto e di avvicinamento all'ex compagna. Anche lei, vittima delle sue violenze, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, maltrattamenti in famiglia e porto di oggetti atti ad offendere. Quindi non a lesioni come erroneamente avevamo detto poc'anzi. Si è parlato di personal branding nell'appuntamento del mercoledì con la rassegna letterale allo Yachting Club di San Vito. L'angolo della conversazione, ospite della serata, la scrittrice Maria Teresa Ostiglio. La scrittrice docente universitaria Maria Carmela Ostiglio è stata la protagonista dell'appuntamento di questa settimana con l'angolo della conversazione e la rassegna dello Yachting Club patrocinata dalla Comune di Taranti organizzata in collaborazione con la BCC San Marzano. Ostiglio ha presentato il suo libro Personal Branding intervistata da Monica Caradonna. L'autrice ha origini tarantine ma da anni vive a Milano dove è docente responsabile di brand management presso l'Università Bocconi. Nel suo libro di recente pubblicazione si affronta una delle tematiche più calde del dibattito manageriale, il personal branding. L'abbiamo ascoltata. Cos'è il personal branding? È una cosa che mette insieme il brand e la persona, mette insieme queste due cose e cerca di lavorare sulla rappresentazione che la persona ha con tutti i suoi elementi e tutte le sue caratteristiche personali, tratti della personalità eccetera, così come viene rappresentata e osservata dal suo mercato di riferimento. Per sviluppare il personal branding si parte dalla propria identità, si lavora sul mercato, quindi cercare di capire il proprio mercato, si costruisce il posizionamento e si misurano i risultati. L'angolo della conversazione non si ferma, sono previsti due eventi a sorpresa oltre alla serata del 3 settembre con i figli di Giulio Andreotti che presenteranno in anteprima nazionale il libro I Diari Segreti. È arrivato anche un premio per lo Yachting Club selezionato tra le 35 eccellenze pugliesi del turismo, distintesi per innovazione. Il riconoscimento è stato ritirato dall'amministratore Gianluca Piotti, premiato dall'assessore regionale allo sviluppo economico Mino Borraccino e dalla project manager Matteo Dusconi. Benvenuti a questo appuntamento in diretta con il Tg dedicato a Brindisi e provincia. Occorre progettare la ripartenza del paese, l'appello lanciato dal Brindisino Gianluca Budano, consigliere nazionale delle Acri. Il servizio è di Gianni Canalire. Se non si progetta la ripartenza sarà sempre emergenza e questo è il senso di un appello lanciato da Gianluca Budano, Brindisino, consigliere presidenza nazionale delle Acri con delega alle politiche della salute. Per le Acri è necessario che si avvii un percorso che possa portare a progettare in maniera radicale ma anche strutturale la ripresa economica e sociale. Le parole del Presidente Mattarella, seguite poi da quelle dell'ex governatore della BCE Draghi, devono fortemente interrogarci su quella che deve essere la riprogettazione, così loro stessi l'hanno chiamata e noi come Acri vogliamo rimarcare questo concetto, della ripartenza. La ripresa e la curva epidemiologica è un dramma ma anche a contagi zero ci dobbiamo provare il problema del dramma socio-economico che i cittadini stanno vivendo. Sono passati troppi mesi senza aver riprogettato la ripartenza sociale ed economica, non può essere fatta solo di bonus, mini bonus e sussidi che prima o poi finiranno, sono stati utilissimi ma finiranno ma bisogna utilizzare questa occasione per riprogettare il tessuto socio-economico e sanitario della nostra nazione. Come? Prendiamoci questo benedetto mess senza polemica alcuna di ordine ideologico, questi 30 miliardi di euro che sono depositati tra virgolette presso l'unione europea, utilizziamoli per la sanità di prossimità, quella sanità di prossimità che nell'ultimo ventennio è stata distrutta e che il lockdown, che il covid ha messo a nudo come l'elemento più duro della nostra assistenza sanitaria che è fiore all'occhiello ma è priva di ambulatori di prossimità che bisogna restituire anche nei piccoli comuni e quindi affinché un diabetico, un iperteso, chiunque abbia una patologia non si senta più solo e percepisca la sanità come presente a prescindere se ha un ospedale sul territorio, se ce l'ha a 10 a 15 chilometri. Ambulatori per tutti, un medico o riforma della medicina di base, più attenzione quindi percezione di sicurezza sanitaria per tutti i cittadini. Nessuno si deve sentire più solo, neanche nelle piccole comunità di 20-30 abitanti in capo alle montagne. Un ordigno bellico torna al centro dell'attenzione della cronaca a Brindisi. Una bomba inesplosa risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stata scoperta durante i lavori di bonifica all'interno di un poligono militare a sud di Brindisi. L'ordigno sarà fatto brillare dagli artificieri nei prossimi giorni. Sentiamo intanto il servizio di Gianmarco di Napoli. Non è stata una sorpresa perché i cartelli da tempo mettono in guardia sulla possibile presenza di ordigni inesplosi. Una bomba aerea simile a quella scoperta alla fine dello scorso anno nei pressi della multisala Andromeda è stata trovata durante i lavori di bonifica nella zona del poligono militare di Punta della Contessa sulla litoranea a sud di Brindisi. L'ordigno di circa 500 libre è stato individuato da un operaio che stava manovrando un escavatore. I lavori di bonifica e di scavo sono stati immediatamente sospesi e la zona è stata interdetta e messa in sicurezza per poter procedere nei prossimi giorni alle operazioni di recupero e successivo brillamento dell'ordigno da parte della squadra artificieri di Foggia. Tutte le verifiche e gli accertamenti sono stati effettuati dal colonnello Gian Battista De Giuli dell'Aeronautica Militare che è competente sull'area del poligono e dal dirigente della protezione civile di Brindisi Antonio Refice informata per quanto di sua competenza anche la Capitaneria di Porto. La zona di fatto aperta al pubblico visto che da anni le recensioni sono state divelte racchiude una parte dell'oasi protetta di Punta della Contessa ed è frequentata da pescatori ma anche dagli amanti del birdwatching. Fino agli anni 90 era occupata stabilmente da militari dell'aeronautica per la presenza di una torre collegata con l'aeroporto, poi è stata dismessa ma mai bonificata e rimane di competenza militare. Cambiamo argomento, è stata presentata oggi a Brindisi nel salone di rappresentanza della prefettura la ventitresima edizione del Barocco Festival, si parla di antica musica, sentiamo Cristina Cavallo. Ritorna con la fine dell'estate come da tradizione il Barocco Festival Leonardo Leo, giunto quest'anno alla ventitresima edizione, rassegna itinerante di appuntamenti dedicati al patrimonio di musica antica nel segno di Leonardo Leo, tra i maggiori esponenti della scuola napoletana del diciottesimo secolo con Natali a San Vito de Normanni. La finestra sul repertorio musicale dei secoli diciassettesimo e diciottesimo, diretta dal maestro Cosimo Prontera e curata dal Centro Studi e Documentazione Leonardo Leo, è prodotta dalla Regione Pugna con la partecipazione dell'assessorato regionale all'industria turistica e culturale dalle città di San Vito de Normanni e Brindisi, dai main partner Enel e Chemgas, in collaborazione con la Fondazione Nuovo Teatro Verdi e l'archivio di Stato di Brindisi. Si comincia sabato 22 agosto alle 21 nel Chiostro dei Domenicani a San Vito de Normanni e domenica 23 agosto, sempre alle 21, nel Chiostro dell'archivio di Stato a Brindisi, con l'esecuzione del concerto, la presentazione del CD, le vie della Maddalena, dal dramma settecentesco, dalla morte alla vita di Santa Maria Maddalena di Leonardo Leo. Gli ingressi saranno contingentati. L'organizzazione è stata complicata, abbiamo fatto quello che generalmente si fa in un anno, il festival finisce a settembre, ad ottobre cominciamo i percorsi per la nuova edizione, abbiamo dovuto fare tutto in un mese, ma questo non ci ha scoraggiato. Era importante continuare ad avere questo appuntamento culturale per il nostro territorio. Vi ripeto, penso che sia un baluardo, penso che sia orgoglio di un territorio, di un percorso di persone che seguono e che vogliono scendere in profondità, non rimanere a galla, come dico spesso negli appuntamenti. Ci saranno dieci appuntamenti che si susseguiranno in un periodo spalmato dal 22 di agosto fino al 27 settembre. Torniamo adesso alla cronaca con un episodio che si è verificato in Corso Roma a Brindisi, un episodio che è stata una tragedia. Infatti un uomo di 51 anni è morto per strada per cause naturali nel centro della città adriatica, inutili soccorsi prestati prima dai passanti e poi dai sanitari del 118. Tragedia in strada questa mattina nel centro di Brindisi. Un uomo di 51 anni è morto sul marciapiedi di Corso Roma per cause naturali. Erano trascorse da poco le 8 quando alcuni passanti si sono accorti che l'uomo era riverso per terra e non dava segni di vita. immediatamente è scattato l'allarme. Qualcuno ha chiamato il 118 mentre il medico della vicina farmacia tentava le prime manovre di rianimazione. Poco dopo è giunta sul posto un'ambulanza i cui sanitari hanno tentato di far riprendere conoscenza all'uomo anche mediante l'utilizzo di un defibrillatore. Ma non c'è stato nulla da fare. Era già deceduto. Abitava nella vicina via Portalecce. Sul posto per i rilievi di rito sono giunti gli agenti della polizia. locale che hanno informato il magistrato di turno dell'accaduto. L'assenza di qualsiasi segno che potesse far ipotizzare altre cause del decesso che non fossero quelle naturali ha portato alla decisione di restituire subito il corpo alla famiglia. Adesso la cronaca. Due arresti per droga. Nelle scorse ore tra Caravigno e Fasano i carabinieri hanno stretto le manette ai polsi di due presunti pusher e hanno sequestrato vari tipi di sostanze stupefacenti. Come ci spiega nel prossimo servizio Michele Iurlaro. Droga di tutti i tipi, ovvero cocaina, hashish, marijuana, persino ketamina, trovati e sequestrati dai carabinieri della stazione di Ostuni e Fasano in due diverse operazioni. La prima ha visto i militari della Città Bianca in azione a Caravigno dove con l'aiuto del nucleo cinofili di Modugno a finire nella rete dell'arma è stato un 50 treni del posto Pierpaolo Greco. Arrestato con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, l'indagato dopo la perquisizione è stato trovato in possesso di 3 grammi e poco più di cocaina occultati in un vano muro. 4.3 grammi di hashish nascosti nelle tasche dei pantaloni. Infine quasi 45 grammi di marijuana occultati su un soppalco, tutto sottoposto a sequestro insieme al materiale per il confezionamento della droga, mentre il 53enne dopo le formalità di rito è stato arrestato e condotto in carcere. Stessa accusa quella di spaccio per il 20enne di Monopoli, Dario Convertino, arrestato dai carabinieri di Fasano a margine di una perquisizione in zona selva. Nei pantaloni il giovane aveva 7 grammi circa di hashish, stessa sostanza ritrovata nel comodino della sua camera da letto per altri 26 grammi di più. Oltre al fumo i militari hanno sequestrato anche 20 dosi di chetamina, quello sembrerebbe, due bilancini di precisione e il solito materiale funzionale al confezionamento della droga. Anche per il giovane si sono aperte così le porte del carcere di Via Appia a Brindisi. Emergenza sangue anche nel territorio di Brindisi e provincia. A tal proposito registriamo l'appello dell'Avis e rilanciamo attraverso il nostro telegiornale. Scatta l'emergenza sangue in provincia di Brindisi. Negli ultimi giorni sono stati lanciati nuovi appelli per informare la popolazione sullo stato delle scorte di sangue a livello provinciale. La situazione è decisamente critica ed alcune strutture sanitarie hanno dovuto sospendere l'attività chirurgica. L'Avisi di Ori all'interno della programmazione estiva ha garantito raccolte ogni tre settimane, riscontrando sempre una grande partecipazione da parte dei donatori oritani. Merito dei giovani, degli studenti ma anche dei lavoratori fuorisede, dei gruppi di amici, di molti genitori con figli appena maggiorenni e di tante associazioni a livello locale. L'emergenza sangue nella nostra provincia è tornata dunque ad ocuitizzarsi nel mese di agosto. Le associazioni Avisi sono state allertate per tamponare le nuove criticità, consapevole che il caldo e le condizioni meteo favorevoli portano spesso i donatori, anche quelli regolari, a rinviare in autunno il proprio appuntamento con la solidarietà. Per questo l'Avisi di Ori a chiede ai donatori di proseguire questo percorso d'amore e di e di raccogliere senza riserve, l'invito alla prossima donazione di domenica a 23 agosto presso il centro di raccolta fisso di Via Frascata. L'associazione informa che fino a nuove disposizioni si continueranno a rispettare le misure di sicurezza adottate finora, tutelando il donatore, evitando l'assemblamento di persone ma anche cercando di diminuire i tempi di attesa. Anche domenica prossima quindi la raccolta sarà gestita su prenotazione, organizzando i flussi di donatori in intervalli di 30 minuti, dalle 8 fino alle ore 11.30. La cronaca politico-amministrativa adesso per le prossime elezioni. C'è un colpo di scena a Ceglie Messapica. Salta l'accordo tra Carlo Gasparro e Giussi. Festa per quella che riguarda ovviamente le amministrative nella città Messapica. Sentiamo sempre Gianni Cannarire. In vista delle elezioni amministrative salta l'accordo tra Carlo Gasparro e Giussi Resta a Ceglie Messapica. L'ingresso nella coalizione civica Rosa Verde di ex componenti del PD come il consigliere comunale uscente Rocco Marrazza ha provocato la rottura. Gasparro aveva rinunciato alla corsa per la fascia tricolore il 29 luglio scorso, sposando il progetto della coalizione civica Rosa Verde e affiancando la collega Resta che sin da subito ha manifestato la volontà di averlo al suo fianco come vice sindaco in caso di vittoria. Ma i rapporti tra i due si sono inclinati con l'ingresso nel gruppo dell'ex consigliere del PD Rocco Marrazza e del candidato alla regione in una lista proemiliano Tommaso Gioia. Non sarò partecipe di questa competizione elettorale. Avevo messo in campo, dichiarato Carlo Gasparro, il mio entusiasmo ma anche le mie competenze. Ho sempre pensato che le idee venissero prima delle persone. Mi sono sbagliato e devo fare pubblica ammenda. Immediata la replica di Giussi Resta. Dopo il mio intervento chiarificatore, teso a sottolineare che sono una donna libera e senza padrini, le contraddizioni vengono a galla. Appare chiaro, continua Giussi Resta, che il mio progetto inizia a destabilizzare ed è partita la guerra ai fianchi. Ma non indietreggio di un passo e vado avanti per la mia strada. Per quanto riguarda la realizzazione del progetto Rosa Verde che giorno dopo giorno trova consensi. Intanto dovrebbe essere ufficializzato l'accordo tra il candidato sindaco del centro-sinistra Pietro Piccoli e il gruppo di Redici, ex articolo 1. E con questo servizio chiudiamo l'edizione dedicata a Brindisi e provincia del nostro Tg. tra pochissimo le notizie dal Salento. Ed eccoci a 85 News Lecce. Apriamo con la cronaca. Sarebbero stati ammassati a ballare senza mascherina sotto una tettoglia di un lido sequestrato. Siamo a Gallipoli come ci racconta Paolo Franza nel servizio d'apertura. Qui siamo lo Zen di Gallipoli. Una struttura che come vi abbiamo più volte raccontato è sotto sequestro. Ma continua ad essere meta di tanti giovani che si divertono a cantare e ballare senza mascherina e senza distanziamento. Più che arriva al mare siamo alla deriva più totale di una società che alimenta la diffusione del mostro. Quel mostro che in Italia ha fatto morire oltre 35.000 persone e tante altre hanno patito la fame non percependo per mesi lo stipendio. C'è chi addirittura ha perso il posto di lavoro. No, la colpa non è soltanto dei giovani. Provate ad immaginare un lido attivo senza sigilli. Sicuramente ci sarebbero stati più controlli. Accessi contingentati, misurazione della temperatura e altre regole che i gestori avrebbero fatto rispettare, come è avvenuto all'interno delle discoteche fino alla loro chiusura. Tra i lidi sequestrati e smantellati in questi ultimi anni a Gallipoli e con le discoteche ora chiuse, dove dovrebbero andare i giovani e i turisti? No, la colpa non è nemmeno di chi ha deciso di viaggiare quest'anno scegliendo Gallipoli. Città sponsorizzata da amministratori e cittadini. Perché in fondo i soldi fanno gola a tutti. Chi oggi si lamenta dei casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime ore a Gallipoli, forse sono le stesse persone che hanno affittato appartamenti superando il numero massimo o che in qualche modo hanno incassato soldi grazie alla presenza dei turisti. Saluti da Gallipoli. A Lecce adesso aggressione in viale dell'università. La polizia ha individuato il presunto secondo responsabile delle lesioni subite dal cittadino senegalese. Un equipaggio della volanti della questura di Lecce si è recata in via dell'università dove un cittadino straniero aveva richiesto l'intervento della polizia in quanto aveva riconosciuto le due persone che il giorno prima si erano rese responsabili di un'aggressione ai suoi danni. Giunti sul posto i poliziotti hanno notato che il richiedente era il cittadino senegalese che nella giornata di ieri era stato vittima di un'aggressione a seguito della quale era stato indagato per lesioni un altro cittadino straniero, pakistano, mentre gli altri autori dell'aggressione erano rimasti sconosciuti. Il senegalese vittima della violenza transitando in viale dell'università ha riconosciuto due degli autori materiali dell'aggressione subita, ha chiamato il 113 facendo giungere la volante sul posto che ha identificato i soggetti fermati. Uno era il pakistano già indagato, l'altro risultava essere un 41enne, anch'esso pakistano. Il senegalese infine ha dichiarato di non conoscere gli aggressori e la motivazione del pestaggio. Andiamo ad oltranto adesso, sempre per la cronaca, vandali in azione per quella che riguarda una baby gang che si filma e posta sui social l'assalto ad un camioncino dei rifiuti. Hanno fatto in poche ore il giro del web, le immagini registrate e postate sui social da una baby gang a Otranto. Non solo risse e urla nel cuore della notte ma anche il sequestro di un camioncino dei rifiuti. Qualcuno infatti è entrato all'interno del mezzo, qualcun altro invece si è arrampicato gettando per strade rifiuti. Non sono mancati gli insulti a chi in quel momento stava svolgendo con sacrificio il proprio lavoro. Il gruppetto, proveniente probabilmente da Roma, si è prima scontrato con dei giovani leccesi sul lungomare per poi saccheggiare il centro storico. C'è chi sfreggia denti d'oro e collana al collo, uno stile mafioso che di certo non rispecchia la città di Otranto, pochissime volte finita al centro delle pagine di cronaca. Cambiamo argomento, adesso mettiamo da parte la cronaca e ci occupiamo delle multe per il grattino scaduto emesse con il modernissimo palmare. Ma pare che sia un'odissea pagare queste multe. Vediamo perché nel servizio di Maria Teresa Carrozzo. SGM ha avviato proprio in questi giorni la possibilità di fare le multe utilizzando il palmare, quindi il sistema telematico. Una grande innovazione, ma innovazione per chi? Per la società partecipata e il comune di Lecce nel riscuotere le multe o per l'utente che multato deve pagare? Ecco, provvederemo. Siamo stati multati anche noi ieri e oggi proveremo a pagare la multa. Con la multa in mano siamo andati in un tabaccaio per provare a pagarla. Primo tentativo fallito. Le multe emesse dai palmari non possono essere pagate presso i tabaccai, quindi bisogna andare direttamente in posta. In posta però a causa di quelle che sono le misure di prevenzione restrittive anti-covidio c'è una fila sostanziosa, in più terminali bloccati. Allora chiediamo un ulteriore chiarimento ad un ausiliario del traffico. Le posso chiedere un'informazione? Ma quando fate le multe per il palmare, per pagarle dove bisogna andare? Allora, o tramite domenica o alla posta. E perché il tabacchino non è possibile? Perché mancano 12 milioni. E non si può inserire i numeri? No, non so per quanto. Stiamo risolvendo, non so per quanto. Insomma, siamo tornati a casa con la nostra multa ancora da pagare. Siamo usciti da casa alle 8 e mezzo, siamo rientrati alle 12 e mezzo, siamo andati in tabacchino, siamo andati in posta, abbiamo cercato di fare anche il pagamento tramite bonifico, ma problemi sulle linee. Ci riproveremo domani. Ma il servizio inserito dal Comune di Lecce d'Est e GEM a questo punto è realmente un servizio d'aiuto per i cittadini? Lo chiediamo anche a voi. E cerchiamo di dare una risposta a questo quesito anche per agevolare quei cittadini virtuosi che vogliono andare a pagare le multe ma poi incontrano le difficoltà che avete visto nel servizio di Maria Teresa Carrozzo. Proseguiamo tornando in provincia o meglio a Gallipoli per la cronaca, un lido sequestrato per la seconda volta. Qualcuno avrebbe tolto i sigilli occupandolo abusivamente. Dopo il sequestro avrebbero violato i sigilli occupando nuovamente uno spazio demaniale alla Baia Verde di Gallipoli. Per questo due persone di 76 e 48 anni, titolare di uno stabilimento balneare esecutore materiale, sono state denunciate alla Procura di Lecce per occupazione abusiva di spazio demaniale, reato continuato, recidiva in osservanza dell'ordine legalmente dato e violazione di sigilli da parte del custode giudiziario. Ad effettuare i controlli sono stati i militari del nucleo investigativo Nipaf di Lecce. Una volta raggiunta la spiaggia, i carabinieri hanno scoperto che i sigilli erano stati violati e le aree demaniali erano state nuovamente occupate abusivamente. La zona è stata ancora una volta sequestrata grazie al contributo dei carabinieri forestali della stazione di Gallipoli. E adesso parliamo di elezioni perché c'è una notizia anche piuttosto suggestiva, l'ipotesi di uno slittamento, ma soltanto sull'ipotesi si è scatenata la polemica. Sentite perché. Rimandare le elezioni per la seconda volta potrebbe essere più di una semplice ipotesi. Parrebbe infatti che all'interno del CTS qualcuno avrebbe avanzato l'ipotesi dello slittamento delle elezioni 2020, tappa sulla quale il PD rischerebbe una brusca frenata. Paura del dilagare del virus quindi alla base delle ipotesi, ma c'è chi pensa anche che ad incidere potrebbero essere i sondaggi che non sembrerebbero favolevoli alla linea governativa. Lo Stato d'emergenza chiesto ed ottenuto da Conte permetterebbe di prendere questa decisione in modo autonomo, senza passare da alcun vaglio. Nessun voto in Senato ed in Parlamento, insomma, nessuna autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica. Basterebbe un decreto, affirma Conte, per bloccare nuovamente le elezioni. La proroga dello Stato d'emergenza fino al 15 ottobre consentirebbe al Governo di valutare ed eventualmente sospendere a data a destinarsi le elezioni regionali, comunali ed il referendum. Con i contagi in risalita, la proroga dello Stato d'emergenza, la chiusura delle discoteche e la minaccia di non riaprire le scuole. Qualcuno l'aveva già appaventata, l'ipotesi che le elezioni fissate per il 20 e 21 settembre potessero slittare. Sui social questa possibilità è all'ordine del giorno tra gli argomenti più discussi tra gli amanti della politica. Ovviamente, come spesso accade, la discussione ha avuto due posizioni e nel caso in cui questo, che finora era solo un discorso astratto, dovesse accadere, Cicca è pronto ad accusare il Governo di utilizzare addirittura il terrorismo sanitario e la proroga dell'emergenza come pretesto per ulteriore rinvio e chi invece si dichiara favorevole a quell'eventualità come sistema di tutela della salute pubblica. Cambiamo argomento, si è conclusa l'inchiesta diocesana relativa al miracolo attribuito a madre Elisa Martinez, fondatrice delle figlie di Santa Maria di Leuca. Ora tutta la documentazione è stata inviata a Roma alla Congregazione delle Cause dei Santi. Vediamo il servizio di Paolo Franz. Si è conclusa l'inchiesta diocesana sul miracolo della serva di Dio galadinese, madre Elisa Martinez, fondatrice della congregazione religiosa delle figlie di Santa Maria di Leuca. Al termine della celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo della Diocesi Monsignor Vito Angiuli presso la Basilica Santuario dei Finibusterre, i documenti sono stati firmati e sigillati e ora tutta la documentazione raccolta durante l'inchiesta diocesana sarà consegnata in Vaticano da Monsignor Sabino Lattanzio, postulatore della causa, presso la Cancelleria della Congregazione delle Cause dei Santi. La miracolata in questione è una bambina di origine marchigiana che durante la gestazione della mamma, esattamente al quinto mese, per sopravvenute serie e improvvise complicazioni rischiava di non nascere. La serva di Dio, che è stata invocata a favore della piccola da viva nel corso del suo postolato, ha sempre privilegiato l'infanzia, le ragazze madri e le persone più fragili. Per il cammino di riconoscimento della santità è necessario che ci sia non soltanto l'accertamento delle virtù eroiche da parte, naturalmente in questo caso, di Madre Lisa, ma è necessario anche che ci sia l'attestazione di un miracolo. Sarà necessario per la proclamazione della beatificazione e poi successivamente della canonizzazione di due miracoli. Il Tribunale ha raccolto tutte le testimonianze e la documentazione clinica riguardante il presunto miracolo fatto dalla nostra carissima Madre Lisa. Si parla di presunto miracolo perché poi dopo sarà la congregazione della Causa dei Santi a verificare se realmente si tratta di un miracolo attribuito alla nostra carissima Madre Lisa. Per noi, per la popolazione, per la persona interessata, si tratta di un vero e proprio miracolo. Senza fissa dimora danneggia un appartamento per occuparlo e viene arrestato dalla Polizia di Stato. Alcuni testimoni hanno riferito ai poliziotti di aver notato un cittadino rumeno uscire da un'abitazione al piano terra ferito. Infatti i poliziotti hanno notato che la porta d'ingresso dell'appartamento era aperta e danneggiata in più punti e sulla porta e sui vetri dell'anta laterale vi erano copiose tracce ematiche. I poliziotti hanno verificato subito che all'interno dell'abitazione non c'era nessuno e che le tracce ematiche iniziate dall'esterno proseguevano anche sul pavimento e sui vari superlettri nonché all'interno del bagno la cui porta d'ingresso era anch'essa stata danneggiata. La proprietaria dell'abitazione avvisata di quanto accaduto, giunta sul posto, ha riferito che mancava da casa dal giorno precedente. ha accertato che non era stato rubato nulla. I poliziotti hanno acquisito la denuncia in merito al danneggiamento gravato e all'occupazione abusiva dell'appartamento. Dai riscontri acquisiti si è dedotto che lo straniero senza fissa dimora avrebbe forzato e danneggiato il portone ferendosi al fine di insediarsi nell'appartamento in cui in quel momento non vi era nessuno. Al termine del certamento il romeno è stato arrestato e su disposizione del magistrato di turno della procura di Lecce è condotto in carcere. Andiamo ad Otranto adesso per i controlli che sono stati effettuati a largo raggio da parte dei carabinieri. Negli ultimi giorni i carabinieri hanno effettuato un controllo a largo raggio nella città di Otranto. Un DJ è stato beccato a mixare musica attraverso una pendrive che conteneva all'interno oltre 3.000 tracce di brani scaricati abusivamente. Il disc jockey è risultato privo di licenza siae. Nel mirino anche attività commerciali. Ai titolari sono state elevate multe per violazioni anti-covid, lavoro nero e carenza dei requisiti minimi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. In tre attività commerciali sono stati controllati circa 300 dipendenti, dei quali sei sono risultati completamente in nero. Le sanzioni amministrative elevate ammontano a circa 25 mila euro. Inoltre è stata sospesa un'attività imprenditoriale e contestate ammende per circa 35 mila euro. Proseguiamo adesso parlando di cronaca politico-elettorale. Questo filone ci porta a Surbo dove ci sarà il rinuovo del Consiglio Comunale. Anche Martina Gentile punta su Ronni Trio. Vediamo il servizio di Maria Teresa Carrozzo. Un passo indietro per consentire a Surbo di farne due avanti. Tanto scrive Martina Gentile, leader del gruppo La Svolta, che in Consiglio Comunale, prima e dopo il commissariamento, ha fatto parte dell'opposizione comunale. Oggi ha scelto di sostenere la candidatura a sindaco di Ronni Trio, fiduciosa di poter portare nelle linee programmatiche della lista Surbo Cambiamo Stagione, un contributo di idee, competenze ed energia. Martina Gentile, candidata a sindaco a soli 26 anni nel 2013, questa volta sceglie la candidatura come consigliere comunale. Un passo indietro potrebbe sembrare, ma solo per prendere la rincorsa. Il bene di Surbo è un valore troppo alto per metterlo a repentaglio con personalismi e divisioni, scrive in una nota ufficiale. Per questa ragione, dopo esserci confrontati a lungo con altre formazioni politiche che hanno manifestato il medesimo obiettivo di rilancio della città, abbiamo scelto di dare la nostra disponibilità a una candidatura in lista con Ronni Trio. Lo facciamo, prosegue Martina Gentile, convergendo su un programma condiviso, nella stesura del quale abbiamo avuto un ruolo di primo piano. Dalla riqualificazione del centro storico alla valorizzazione del parco di Daurio, dall'ilancio delle tradizioni locali alle visioni di una città in grado di far leva sulle grandi opportunità finora taciute, rappresentate dalla vicinanza a Lecce, dalla presenza della zona industriale di una ampia area commerciale, passando per il rafforzamento del senso di appartenenza alla comunità e lotta a ogni forma di devianza. Al suo fianco ci sarà anche Marco Martella, ingegnere informatico e imprenditore, il quale conferma l'opportunità di puntare sul Ronni Trio. Finisce così il nostro telegiornale, ringraziamo voi da casa per la cortese e attenzione, la nostra regia è stata come sempre in maniera impeccabile curata da Michele Marchitelli e Rocco Caliandro, tra poco ci sarà il nostro telegiornale sportivo con Denis Magri, grazie ancora, arrivederci.